Salve a tutti ragazzi e ragazze, saluti in Amato3 e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere qualcosa di interessante ma qualcosa di leggero oggi non è che io trattino argomenti pesati ma ad ogni modo questo argomento si riferirà all'arte, al disegno, cosa che quelli che mi seguono sanno che io non sono capace di affrontare perché sì, io non sono capace di disegnare ma come ogni video che vi porto in questo video potremo disegnare anche senza le abilità qualcosa di bello in realtà qualcosa di estratto, è difficile disegnare qualcosa di sensato niente impossibile però diciamo di questo programma non è fatto apposta anzi non è un programma, è un sito e sapete qual è la cosa più comoda è che si possono salvare le immagini in qualsiasi formato il formato sarà la dimensione della finestra a schermo pieno quindi se dovete fare uno sfondo desktop per esempio utilizzate la risoluzione a schermo intero ad ogni modo il sito si chiama wavesilk.com ma vediamo in cosa si sostanzia iniziamo già a disegnare ci sono delle icone qua innanzitutto fate full screen dopodiché fate controls in controls potete cambiare il colore come potete vedere tende a cambiarle un po' da solo è bello spesso cambiare oltre al colore anche la simmetria diciamo così ecco magari ogni volta che cambiate simmetria cambiate colore adesso è venuto un po' confusionario però come starete vedendo guardate che disegno simpatico che ne è uscito adesso lo salviamo o potete anche condividere per salvarlo fate giustamente save picture e vi salverà non l'immagine completa ma quella che state vedendo voi quindi ricordatevi di non andare fuori negli spazi perché non ci sono parti che non vedete tutto quello che vedete è quello che vi salverà e niente tutto qua il video di questa settimana era veramente breve può essere utile per qualcuno questo va bene magari se volete farci se volete disegnare qualcosa di semplice anche per esempio che ne dite magari dovete fare un titolo e ci fate così ecco la scritta in mezzo così magari per un'anteprima per qualcosa di multimediale è molto simpatico o io l'ho utilizzato per farmi uno sfondo desktop perché la risoluzione di questo schermo è diciamo non è comune ed è difficile trovarci immagini per questo comunque come vedete questo sito ve lo raccomando questa domenica vedremo ho in breve un grande video da portare ma non so se riuscirò alla fine di questo mese ma ci sto lavorando su quindi stay tuned ogni domenica alle 16 un nuovo video grazie per la visione vi auguro una buona domenica e alla prossima la T93 ogni domenica alle 16 grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione Grazie a tutti.